Ci troviamo qui al Cersaie, come Air Blue abbiamo portato una serie di novità molto importanti. Iniziamo a parlare per quanto riguarda le chiusure doccia e le novità sono linea e virgo. Per quanto riguarda i piatti doccia abbiamo tutta una serie di novità che riguardano i colori, ovvero la possibilità di presentare e proporre dei piatti doccia colorati in tinta con la palette dei colori Air Blue. Sono 44 colori opachi che possono tranquillamente essere abbinati ai top, alle pannellature e agli accessori della collezione Air Blue. Per quanto riguarda i mobili per bagno invece presentiamo due collezioni che sono il modello Tango e il modello Ito, che rappresentano due novità assolute che proprio presentiamo durante questa manifestazione fioristica. Per quanto riguarda la parte delle chiusure doccia abbiamo puntato molto proprio sulla ampiezza di gamma, ampiezza di offerta, ovvero abbiamo lavorato su ciò che è l'alto di gamma, il medio di gamma e l'entry level per quanto ci riguarda. Infatti il Virgo rappresenta un prodotto entry level, ciò non toglie che comunque si tratta di prodotti ben disegnati, ben costruiti e con molteplici possibilità di dimensioni, quindi di finiture, di colori e di tipologie di apertura. La parte più importante e più difficile è stata invece, tra tutte, il lancio del modello Linea. Si tratta di un box doccia 2 metri in altezza, 6 mm di spessore del vetro. È un prodotto che rappresenta una novità del mercato, ma rappresenta anche un trend molto importante. Il trend è proprio quello di togliere sia a livello di meccanismi, sia a livello dimensionale. Quindi il prodotto è minimale, quindi abbiamo tolto molte cose, ma rimane un prodotto funzionale, un prodotto stabile, solido, che comunque mantiene tutti i requisiti che noi diamo per i pietri miliari per quanto riguarda i nostri prodotti, che sono la consistenza, l'efficienza e la funzionalità. Tutti i prodotti vengono pensati con un intento, un obiettivo comune, che è quello di dare alla possibilità al nostro cliente di riuscire a coordinare l'ambiente bagno o con un unico progetto ispiratore. E questo si può utilizzare o attraverso l'utilizzo delle superfici coordinate, oppure attraverso i colori, oppure sia per quanto riguarda le decorazioni. Ad esempio, tutte le nostre carte d'apparati, che sono personalizzate a AirBlue e si possono utilizzare anche all'interno del box doccia, sono in tinta con, ad esempio, le colorazioni dei nostri mobili o dei nostri box doccia. Questo è il nostro obiettivo e sono sicuro che lo raggiungeremo. Grazie! 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 Grazie!